Seconda edizione del Galà dello Sport Mantovano, il Mantovacalcio rappresentato da una delle sue bandiere. Silvano Raggio Garibaldi, le tue impressioni della serata e l'obiettivo del Mantov a 1911 da quella fine della stagione? La serata è veramente bella e interessante, ho conosciuto anche tanti protagonisti di altri sport mantovano e mi ha fatto proprio piacere perché ho potuto notare quanta passione e con quanto sacrificio svolgono le loro attività e quindi sono solo da prendere da esempio e per quanto riguarda l'obiettivo di quest'anno è raggiungere i playoff il più velocemente possibile e cercare di vincerli per chiudere al meglio questa stagione perché c'è tanta voglia di far bene. Tu sei tornato a metà stagione acclamato dal pubblico mantovano, com'è stato tornare a Mantova e com'è il gruppo attuale? Il gruppo attuale è fantastico, già quando sono arrivato ho visto un bellissimo gruppo che ha portato entusiasmo a Mantova e questo gli fa solo che onore. Per quanto mi riguarda sì mi ha fatto piacere l'accoglienza che ho ricevuto spero di poter ricambiare il più velocemente possibile con buonissimi risultati in campo.